Musica L'agriturismo Le Terre di San Domenico sorge all'interno di una vasta azienda agricola specializzata nella produzione di agrumi, ortaggi, olive e frumento. Internamente pianeggiante consente di sconfinare in spazi infiniti permettendo allo sguardo di ammirare contemporaneamente la verde campagna incorniciata dalla sontuosità dell'Etna che irrompe maestosa sul golfo di Catania. Nella struttura sono presenti mini appartamenti capacità massimo a 4 persone e camere doppie, triple e quadruple, tutte dotate di condizionatore e tv satellitare. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS